è stata veramente dura qui a casa al belino non solo è difficile perché fa tanto caldo ma diciamo che come primo primi tornei per noi non è semplice comunque trovare il giusto feeling e diciamo che siamo state brave a resistere al caldo ea trovare la giusta via non c'era torneo migliore per arrivare in finale con l'inno con i fuochi è stato incredibile complimenti è una soddisfazione ma al di là della vittoria ok siamo felici è come l'abbiamo raggiunta perché abbiamo fatto veramente due giorni dove abbiamo giocato bene infatti non abbiamo concesso neanche un set agli avversari che comunque sono avversari di grande valore perché sono molto forti quindi siamo molto contenti per questo soprattutto stanno giocando molto bene si è cambiato molte cose fortunatamente sono cambiate molte cose si può ancora migliorare ma tanto lo sappiamo tutti ma sono piccole cose secondo me da migliorare il molto è già stato fatto e cercheranno cercheremo di aiutare per migliorare il tutto ma comunque il pubblico l'atmosfera tutto è stato molto bello secondo me da migliorare ci sono veramente poca roba perché il resto è molto bello quindi buon bravi quelli che hanno organizzato questo campionato quest'anno e speriamo magari l'anno prossimo